31 maggio 2011 siamo a Darbizzano, frazione di Negrar e sta facendo il cantiere vicino alla zona industriale, in zona industriale. Il terreno risulta essere costituito da primo metro e mezzo di suolo, ghiaia e terreno parzialmente consolidati e al di sotto, metro e mezzo, abbiamo invece fino a 5-6 metri una zona costituita da ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa. A volte la ghiaia è costituita da detrito diversante, riconducibile alla presenza delle perpagini più meridionali dei lessini e al di sotto troviamo invece una maggiore densità di ghiaia e ciottoli. Quindi comunque questi primi metri sono parzialmente cedevoli. La falda non è stata rilevata, sono state fatte anche due indagini sismiche a sismica passiva con l'uso del tromino.